Bene, per me è sempre timore e tremore parlare di Joyce, anche perché quando ho fatto una conversazione a Zurigo, nella società junghiana, ho dimenticato gli occhiali e il signore dottore junghiano mi ha detto questo è un sintomo, non ho ancora capito che sintomo ma oggi devo stare attento a non dimenticare gli occhiali ancora una volta, se no veramente è un sintomo. Noi abbiamo Francesca Pace, professore di merito, direttore inglese dei paesi di lingua inglese e inglese, che ha fatto una traduzione straordinaria. Vorrei dire che Joyce ha delle trappole incredibili, a cominciare per esempio nel Chamber Music, che è la prima collezione di poesie del 907, dove il Chamber Music tutti l'hanno tradotto come musica da camera, ma Chamber Pot è il vaso da notte, per cui oltre che musica da camera è anche il rumore che fa durinare nel vaso da notte. E lui fa sempre questi scherzi incredibili, il mio grandissimo amico, che purtroppo non c'è più, dice io non studio più Joyce perché abbassa sempre, no? Cioè lui vola in alto per cadere in basso, ma lo stesso titolo di questo è, come avrete visto, Poems pelic, che poems sono delle mele, ma sono anche, diciamo, delle poesie, e poi si tratta che giustamente Paci, che potrebbe essere da nutrici e studiosa anche da persone di gusto, ha fatto il libro verde, ha fatto fare il libro verde come voleva il nostro, perché a lui piacevano le mele di Calvi, che però anche lì non so se è una trappola, perché conoscevo un poeta francese che ha scritto delle poesie di Calvi rosse, no? Mentre qui sono verdi. Perché ce ne sono come quelle, come si chiamano, Belinda? Eh, ce ne è, ce ne sono, sì. Insomma c'era il famoso Rouge de Calvi di Georges de Bamel, no? Dicevo non sarà un signore, lui fa dei scherzi, però forse in questo caso non è pertinente. Devo dire un altro, cioè faccio un po' un discorso planetario, nel 68, con dei amici abbiamo fatto il centro suolo e abbiamo, l'abbiamo inaugurato con gli 84 anni di Ezra Pound. Il centro suolo era importante perché tutti dicevano che la poesia è roba del signorino, per gente incapace di impegnarsi, mentre è un impegno estetico fondamentale e quindi lo facevano per continuare a diffondere la poesia, no? Purtroppo gli amici, alcuni di Fugo Carega che hanno detto che non c'è più, tu saluto. Beh, comunque è venuto Pound e in quell'occasione ho conosciuto anche Mary Ragerbils, che io sarebbe la figlia, Mary Pound, la quale in quell'occasione mi disse a Pound queste poesie del Pons non sono piaciute, facevano, dicevano, non pubblicarle affatto. Per dire che non sono di facile lettura, sono ottime poesie, a Pound non piacevano per vari motivi, li sembravano troppo legati alla vita privata. Effettivamente c'è una poesia che non leggerò mai perché mi viene da piano, bellissimo, scritto alla figlia, alla figlia che era psicotica, no? La quale ha contribuito nella riedizione del libretto a disegnare le prime lettere di ogni poesia con una graffia pittorica e disse al padre, ma l'editore non mi ha pagato, questo è un altro motivo perché Joyce sembra così, insomma, così uccinico, ma in realtà diete i soldi all'editore perché lo desse alla figlia di tasca sua pagò. Allora, ancora un problema, prima di dire altre cose, perché Pound non gli piacevano, perché secondo lui la vera poesia di Joyce è nelle Epifanie, che sono via di metodo tra la poesia e la prosa, lui lo definì come improvvisa rivelazione della qualità di una cosa, momento in cui l'anima di cose dell'aspetto più comune rivelano attraverso la radianza la loro essenza e qui tutti quelli che ci hanno chiesto Maso d'Aquino nettamente l'estetica del grande Aquinate, no? Cioè, quindi Joyce è spaventosa anche perché ha una cultura, come dicevamo, per te, enciclopedica e chiamò Epifanie a questa cosa per motivi di questo tipo di illuminazione e su questo si potrebbe parlare a lungo. Ancora una parola su Pound che dice siamo governati dalle parole, le leggi sono scolpite dalla parola, la letteratura è l'unico mezzo per far sì che queste parole rimangano vitale e precise. Ed effettivamente Joyce è molto vitale, ma non preciso nel senso romantico. Preciso nel senso romantico, Matthew Arnold diceva La poesia unisce l'emozione a un'idea e l'idea è il fatto. Ora, la poesia invece del nostro gran ed asparosa di Joyce rifiuta la monumentalizzazione assolutizzante dei significati no? E esaltano la lettera, come adesso si vede a finire il suegno, l'inchilati davanti alla lettera. Quindi è semanticamente eversivo, diciamo così, polivalente per dirlo in modo tecnicamente basso o armonicamente polifonico, no? E quindi anche le poesie probabilmente sono di una difficoltà, io non l'avevo capito per niente, adesso ci dirà lei. Cioè io ho passato dieci anni a studiare Finangelswig, alla fine mi sembrava che l'ho capito, mi ricordo l'amico Segri diceva, è un po' troppo, non dedicherei mai al grande filologo, dice a uno scrittore più di un anno non lo posso dedicare, mentre l'amico Seppieri non piaceva perché dice ogni volta per esempio SOS, same old shit, la vecchia merda, insomma lui ha sempre un significato, un altro e un altro ancora, per cui come diceva giustamente Romana Paci, la sua non presume di essere l'assoluta traduzione, ma è un'offerta di lettura, no? Mi sembra che tu abbia detto? Ci l'ho detto, non lo credo proprio, ma no. Cioè l'offerta di lettura vuol dire che ci sono molte letture possibili, la sua è bellissima, è quello che conta. E diciamo, Joyce è considerato antiromantico, però in realtà lui adorava Byron, Sherry e Blake per la loro ribellione, soprattutto in serie Byron c'è la rivoluzione anche nel mondo, in Blake nella mezza fisica e in Joyce c'è praticamente la totale rivoluzione al semantismo dilagante, alla magnificazione della lettera al trionfo del significante, soprattutto nel fine del secco, ma non solo in quello. E cos'altro potrei dire? In queste poesie, poi dico solo che quello che mi ha colpito leggendole, senza capire del tutto, è che ci sono citazioni dall'opera italiana, oltre che riferimenti all'opera, quindi Verdi, Fuccini, Bellini, no? E su questo forse tu ci chiarirai. Quindi ecco, è una grande occasione di incontrare Joyce, che nella vita non è stato, non ha fatto rivoluzioni, ma nella mente dei lettori e dei cultori della letteratura è un rivoluzionario quasi non superabile, non superato. E quindi, gloria a James Joyce. Mi sentite anche se non uso questo? Ah, ho capito, ho capito, non dire più niente. E ancora c'è, scusate, ma non è possibile non pesare. Vorrei subito collegarmi a Tommaso per dire una prima cosa che dico sempre, per qualche ragione, sembra sempre nuova. James Joyce è nato nel 1882, è morto nel 41. Ancora oggi, quando si parla di Joyce, si sente dire da molte persone, ah, a me queste cose moderne. Moderno cosa? È nato più di 100 anni fa. Joyce, a noi ancora adesso lo consideriamo il neck plus ultra dell'espressione letteraria. Si è detto dopo Joyce, il romanzo è morto, non posso raccontare tutto quello che si è detto, ma Joyce è invece ormai vecchio di più di 100 anni. È vero che noi lo consideriamo ancora moderno, però secondo me non abbiamo pensato a due tre cose. Giustamente Tommaso dice, è un rivoluzionario, non è un romantico. Io oserei dire che è talmente rivoluzionario da essere tutto, perché Joyce riesce anche a essere intensamente romantico. Chiunque per esempio ha l'amore che Joyce mostra per Verdi, e in particolare che devo dire per Otello, e forse i pezzi che vengono fuori di più, proprio in Finnegan Suede, ma anche in altre cose, sono i pezzi più strappacuore, come per esempio quello dell'Aldeia di Ardente, il duetto per Christemona e Otello, in cui si dicono, io ti amavo per la tua pietà, tu mi amavi per le mie sventure, insomma se lo ripeto una varie volte, e non solo, andava a teatro, abitava a Trieste, allora soprattutto a Trieste che si è occupato dell'opera italiana, il teatro non era molto lontano da dove viveva, aveva sciuto in vari parti a Trieste, ma a Trieste è piccola, si andava sempre peli, e Joyce era un frequentatore non solo assiduo, quasi maniacale del teatro Verdi, e sentiva una quantità di musica e anche di opere che noi adesso considereremo magari non tra le più sentite, non le più note, ma certamente amava moltissimo Verdi, insomma quello che voglio dire è che Joyce, noi lo continuiamo a considerare moderno ed è morto nel 41, non è ancora vicinissimo al centenario della morte, la nascita è passata da molto tempo, e noi continuiamo a considerarlo assolutamente moderno, questo volevo dirlo perché quello che a me colpisce di più di Joyce, di là di quello che lui ha scritto, ci sono anche tre volumi grossi così di lettere più tante altre, e io credo di averle lette praticamente tutte, in cui si vede che Joyce era sì un rivoluzionario quando scriveva, ma era un padre di famiglia, era nei suoi gusti per esempio per la sua casa, per l'arredamento, per i vestiti, estremamente di dermaie, non voglio dire da fiori di cera sotto la teca di cristallo, ma quasi, certamente quando descrive vestiti, abiti, soprattutto l'abbigliamento femminile, è estremamente Biedermeyer, allora forse bisogna un po' correggere il tiro, rivoluzionario sì per quello che scrive, perché ha queste intuizioni straordinarie che in realtà non sono rivoluzioni al realismo, sono come i critici francesi hanno detto, un realismo così spinto all'estremo. In Dubliners, che non è la prima cosa che ha scritto, è un pochino più complicato, sta di fronte e guarda come è a teatro, nel portrait racconta se stesso, entra un pochino di più in un realismo che si avvicina al flusso di coscienza. nell'Ulisse ci entra ancora di più, per esempio, per abbreviare, perché poi devo parlare delle poesie, pensate ai pixel, cioè alle immagini che noi abbiamo sul computer e il numero di pixel determina la maggiore chiarezza dell'immagine, l'avvicinamento maggiore. Ecco, in fine Genswake lui ha una quantità enorme di pixel, si avvicina moltissimo e crea un'immagine che è proprio poussé il realismo, molto più di quanto non abbia fatto, di quanto non abbia fatto gli francesi che parlano del realismo, del naturalismo, lo fa molto di più. Quindi ogni tanto mi viene voglia di correggere il tiro, ma questo posso essere io. Parliamo ora di queste poesie. Potrei continuare a parlare di Joyce per tanto tanto tempo, adesso, tutto questo tempo, non c'è. Perché io sono arrivata a voler tradurre queste poesie? Ho cominciato tanti anni fa, più o meno negli anni 70, a casa di un'amica che è morta molto recentemente e io le ho ritirate fuori dopo che lei è morta. Non tanto per dedicargliene, ma perché le ho ritrovate, tirando fuori le sue lettere e alcune cose che avevamo, perché io ho voluto tradurli? Perché evidentemente le tradizioni precedenti non mi piacevano, ma assolvevano un compito che naturalmente è discutibile, naturalmente ancora c'entra Pound, si può tradurre la poesia. qualche cosa della poesia, non vi racconto la teoria pomidiana, secondo Pound qualcosa passa e qualcosa no. Certamente l'aspetto, non soltanto quello armonico, ma anche quello melodico, non passa. E Joyce era ben cosciente di che differenza c'era tra melodia e armonia. Ed chiaramente preferiva, strano a dirsi, la melodia per alcune cose. aveva, da ripeto, gusti che erano sempre più vicini ad Erdi e a Bidermeyer che non a una rivoluzione oschembergiana posteriore. Naturalmente quando si dice ci sono alcuni critici francesi, di nuovo per esempio a Marsellaire, che direbbero non è vero, invece secondo me i gusti musicali di Joyce che suonava la chitarra e cantava e ha avuto un figlio che a sua volta aveva una bellissima voce e cantava e cantava che ovviamente è meglio di lui ed era un baritono. E quindi a quel punto Joyce si è messo a cercare tutte le parti di baritono e di basso che poteva trovare nell'opera, in particolare del Folstaff e qui in effetti. Naturalmente scusate, ho detto sbagliato, non di Folstaff, di Fasstaff, di Erdi. Allora, non mi piacevano le traduzioni, perché? Perché i traduttori non erano bravi, assolutamente no. Qui ci sono le traduzioni che sono poi uscite. scritte da Mondadori. Ma non avevano potuto, non avevano avuto tempo di leggersi tutte le lettere, di leggersi tutto quello che Joyce aveva prodotto. Finito un secolo letto in maniera a macchia di leopardo, anche perché poi le macchie che leggo me le scordo, allora poi le devo rileggere, non è una cosa facile. Però, certamente, per tradurre queste poesie bisogna fare un'operazione che è fondamentalmente scorretta. Bisogna riferirsi a tutto quello che lui ha scritto e questo è corretto. Cioè immaginare che tu sentiamo, ma anche riferirsi alla sua vita. E questo, per noi, di base Crociani, a scuola, da quando io ho scuola sono sempre professore Crociani, devo dire, non è corretto. Però lui, Joyce, ha fatto come Louis Spaknis, che è un altro grandissimo a qualità irlandese, che io ho tradotto un qualche tempo fa. Ha modificato la sua vita e ha rappresentato la sua vita in quello che scrive, facendo una rappresentazione che ovviamente era una forma, che ovviamente la cambia, simile ovviamente a quella che avviene nella di Pesta di Shakespeare, una metamorfosi, e quindi è diventata letteraria, è diventata opera sua, ma purtroppo elementi sono necessari per lui. Passiamo a queste poesie. Queste poesie le ha scritte, non cito esattamente, ma vi dico delle lettere, perché stava scrivendo Fiene Gadsweig, tutti dicevano che era cervellotico-cerebrale incomprensibile, illegibile. Voglio dimostrare che sono facilmente leggibile, che so scrivere in maniera semplice. Tanto semplice che quando Montale ne ha tradotto i due, non erano italiane, diciamo assolutamente, e quando Pavese mi ha avuto in mano e gli hanno chiesto di tradurre, Pavese ha detto già vi, assolutamente, non voglio neanche provarci perché mi irretano. E molti altri hanno detto che li trovano irritanti. Perché io l'ho fatto? Vabbè, perché ognuno agli superversori, mi piaceva farlo. Però anche perché leggendole, e leggendole devo dire in Irlanda la prima volta, ho visto qualche cosa che finora non è stato visto, che a quanto pare giudicando le recensioni adesso viene accettato. Che queste poesie non sono disunite, non sono casualmente buttatevi per far vedere che so scrivere in maniera facile, sembrava lui perché facili non sono, ma sono sistemate in una struttura ben precisa, in una cornice. Se noi pensiamo a quello che ha scritto Joyce, meno Stephen Hero, e già perché naturalmente si riferiva a Stephen Hero, quindi a qualche cosa che era già una struttura, tutto quello che ha scritto Joyce è sostenuto da una struttura portante, da una scatola. Mettiamola così, da una scatola. Perché sono le storie di un individuo rappresentato in varie età differenti da diversi individui. Il portrait sostanzialmente sono cinque atti, come la tragedia greca e anche seguendo le parti della tragedia greca, ma non è soltanto quello, Ulisse, sappiamo tutti, l'Odissea, Finnegan e la ballata di Finnegan. Ebbene, queste sono sostenute da una struttura di, diventa triste, la prima esperienza della morte e il momento in cui ci si rende conto, morirò anch'io. e tra la prima esperienza della morte, e il morirò anch'io, ci sono delle pene. Quindi il titolo, che ha avuto l'attenzione maggiore che hanno avuto queste poesie, che hanno una bibliografia veramente molto bene, è il titolo. Perché ci si è visto di tutto, naturalmente anche il pene, questo è ovvio. Anche io ci ho visto il pene, ma plurale di pena, in italiano. Per lo più sono state scritte in Italia, fra l'altro, una a Dublino, la tredicesima, e se si leggono, pensando alle lettere di Joyce, alle date, a quello che gli avveniva, e anche a tutti i legami interni, ci si rende conto che sono quello che gli ho messo in un titolo, che è già un'interpretazione. Poesie, una pena, una. E ogni poesia rappresenta una pena. E questo dimostra, in un certo senso, segue anche a quello che gli ho detto, quando vi ho detto che Joyce, giovane rivoluzionario a vent'anni, poi invece diventa padre, ha due figli, è preoccupato per i figli, è preoccupato perché deve mantenere quei figli, ha gelosie per la moglie. Nora era una bella donna, ed era anche una donna con una sessualità abbastanza prorompente, e comunque gli uomini gelosi non hanno bisogno né di sessualità prorompente della moglie, né di nient'altro per essere gelosi. È completamente ingratto, è loro proprio, è una caratteristica propria. Insomma, lo vediamo proprio come un uomo che passa dalla gioventù alla maturità e ha anche un altro grande problema, che naturalmente è della vita, ma che diventa anche un problema molto forte nella sua poetica. Joyce invecchia male, ha un enorme, terribile problema di occhi. E siccome è un mito poetico in maniera estrema, non solo metamorfizza, ma mitomorfizza tutto quello che gli succede, questo processo verso la cicità, per lui diventa un percorso letterario e mitizzante, mitizzante di se stesso. E questo pesi sono tredici, dovrebbero essere dodici, ma la prima si chiama Tilly. Tilly è un primo problema di traduzione, che in genere viene lasciato esattamente com'è, o viene considerato il nome, il nome di una persona, non è assolutamente così. Tilly è la anglicizzazione di Tillich, che è gaelico, per aggiunta. Ed è quello che veniva fatto a Dobrino quando si andava a comprare il latte, o si andava a comprare le mele, e dai panettieri, ancora adesso, o si è fatto fino a poco tempo fa, quando si va a comprare il pane. Il pane, di fatto in inglese si chiama Beckerstowson, però viene fatto di più con l'altro. Non so se voi li avete mai incontrato il latte in una manga, con il visorino, ve lo riempiano, e poi con il vistorino aggiungono un Tilly. Una cosa in più. Allora, siccome questo è del vocabolario anglo-irlandese, Tilly, l'anglo-irlandese non è esattamente l'inglese, è appunto l'inglese che si parla in Irlanda da svariati e svariati secoli e che si è modificato a contatto naturalmente con il greco-irlandese e anche a contatto, e anche per la storia della lingua, perché la storia della lingua ovviamente cambia. Allora abbiamo cominciato nel primo a tradurre Tilly, non a lasciare Tilly, a mettere aggiunta, perché aggiunta, aggiunta è. Sono tredici, invece lui dodici. E dopodiché vorrei passare alle poesie, perché vorrei raccontarvi qualche cosa delle poesie. Lui scrive in una rima, altra, e non solo in una rima, ma scrive in una rima semplice, non scrive in rima difficili, non dico che è rima a cuore e amore, ma quasi l'equivalente. Quindi apparentemente non dovrebbero essere difficili, perché le rime non sono strappate in maniera particolarmente complicata o sono parole particolarmente complicate. La complicazione deriva d'altro. A volte adesso, siccome non faccio nomi, mi permetto anche una malinietà. Enrico, so che è una malinietà, mi permetto una malinietà. La prima, nella prima Tilly, e io vi ho detto che c'è una struttura, Tilly, se la leggiamo, quando la leggiamo vediamo che il parlante, lì o poi Dante, si lamenta per un proprio ramo strappato, perlomeno piange per un proprio ramo strappato. ci sono state le interpretazioni più straordinarie di questo, ma anche quelle che forse qualcuno potrebbe accettare, che la più nota, la più normale, è che fosse appena morta sua madre, cosa che di fatti era successa. un'altra è, ma no, è perché aveva litigato con un amico. Io opto decisamente per la madre, notando che naturalmente lui parla di ramo strappato, semmai è una madre che dovrebbe parlare di ramo strappato se muore un figlio, non il contrario. Ma Joyce, indubbiamente, è anticopernicano per quanto riguarda la sua famiglia. È anticopernicano comunque, perché quello che a lui interessa è la propria percezione da qui fuori. Lui parla di Onfalos, parla di ombelico, e qualunque punto dove lui è, qualunque punto da cui lui scrive, è l'ombelico, indubbiamente nel mondo. È da dove si dirà ma tutto il resto. Per cui se io dovessi definirlo, invece che rivoluzionando, direi James Joyce, l'uomo anticopernicano. Perché non riesce a non uscire dalla... Non riesce, non vuole. È sbagliato che non riesce, è detto una scemenza. Non è che non riesce, non vuole. Sceglie l'Onfalos di visione che i suoi processi vitali e interpretativi del mondo i porgono, lasciando liberi tutti gli altri di avere il loro Onfalos. Un'altra cosa, si dice in questa poesia che il giovane vede un pastore che porta il gregge verso l'alto. Verso... Bisogna naturalmente sapere dove è cabra. Ve la leggo in inglese e le reggo in inglese a hand table. He trembles after a winter sun, urging the cattle along a cold red rogge, calling to them the voice they knowed. He drives his feasts above, coming. The voice tells them home is warm. They know we will make good music for their hooves. He drives them with a flowered branch before me, smoke peeling their foreheads, born on the herd. Tonight, stretched full by the fire, I bleed by the black stream for my torn mouth. Ora, quello che io dicevo alla mia malignità, una interpretazione statunitense parla di somiglianze con D'Annunzio e con la famosa poesia. E non è possibile. Prima vanno in su e in D'Annunzio vanno in giù, vanno verso il mare. In settembre andiamo e in tempi di migrazione. Vanno verso il mare. E poi perché non ci sono migrazioni del genere in Irlanda e poi perché Cabra, di cui lui parla, si è colgo di Dubrino, che è su tutte case, allora invece aveva anche prati e quindi aveva anche pascoli. Quindi molto probabile che il pastore della mesa avessi portato le bestie giù a mangiare e adesso le riporta nella stalla. Ma certamente non è l'abruzzo. Questo era soltanto per leggerla in italiano, magari poi la potete leggere voi. Comunque, viaggia verso lo sole d'inverno, spinge la mandria per una fretta strada rossa, lancia i chiami, una voce di sangue, guida le sue bestie oltre Cabra. Quindi io non ho detto a Cabra che vanno sopra a Cabra, perché non ho tradotto come ho tradotto gli altri. Ho messo semplicemente oltre, perché secondo me non vanno al mare, non ci sarebbe ragione, ma vanno alla stalla che è proprio su. La voce dice che la casa è calda, mucchia mi suonano gli zoccoli, mi suonano musica brutta e mi davanti a sé con una frasca di fiore. Fumo in piuma nella loro fronte. Andreano legato al branco, sedi di questa notte vicino al fuoco, io sanguino vicino alla corrente che era per il mio ramo strappato. Devo dire che questa non è forse la più bella poesia della raccolta, però è quello che io vi dicevo. Il ramo strappato comincia con una morte, non è soltanto il mondo della madre, i rami strappati muoiono. Quindi anche il ramo del pastore, che non ha coscienza che il ramo strappato muoierà, il pastore non interessa questo, va a casa e poi la ormai. Lui invece parla di ramo strappato, probabilmente per questo che c'erano, ma in realtà anche tutti e due i rami sono morti. Perché sono stati strappati, non sono più attaccati alla pianta. Mi sono sempre domandata, ma questo non c'entra niente, se aveva letto il tuo fiore della mia pianta per consigliare il dito. Può darsi, eh? Perché aveva anche in poesia dei gusti che noi adesso non ci aspetteremmo, come musica. Comunque questa probabilmente non è la migliore. Come vi dicevo a scriverina, una delle cose più interessanti che io trovo invece, la più celebre naturalmente è un fiore donato a mia figlia. E anche questa probabilmente non è la migliore. Ma una cosa che io trovo bellissima delle poesie in inglese è l'uso che fa di un verso bellissimo che noi conosciamo, se leggiamo un saffo, perché è il quarto verso della saffica minore. Ed è estremamente interessante questo, perché il quarto verso della saffica minore si chiama adonio e devo appreviare per forza perché se comincio a parlare dell'adonio di nuovo, se voglio una decilazione per parlare dell'adonio. Una cosa che a me ha colpito molto è che l'adonio, senza nessun collegamento con il saffo, per l'inteso, è molto usato nella liturgia cattolica. Vi do un esempio solo, in un centro, in un obrechi, ora pronobis è sostanzialmente una donna. La donna è formata in genere da un dattilo e poi da un piede di due parti, che spesso è un trocheo, qualche volta è uno spondeo. Se è uno spondeo si crea una lievissima cesura di lettura fra le due lunghe, se no va pensati ora pronobis. Ora pronobis è un splendido apparello. Ebbene, usa per caso la saffica minore, Joyce? In ogni caso è irregolare, però in un certo senso sì. Dunque dalla saffica, dai primi traversi della saffica minore, salto molti passaggi, viene l'endecasittabo. Naturalmente passiamo da una metrica partitativa a una metrica risolta con accenni. Però, se noi pensiamo a quarta o sesta e decima, noi vediamo che, e qui dovrei richiamare invece la prefazione a Cristabel di Coleridge, che pure ho tradotto e tu mi hai trattata molto bene, grazie. Vediamo che gli accenti sulle parole più significative, che quasi sempre sono accenti tonici e non soltanto accenti etnici, cioè evitare la caduta dell'accento ritmico fuori dall'accento tonico, è qualche cosa che rende la lettura difficile e che implica un certo disagio nell'avere creati. La cosa bella è riuscire a far coincidere l'accento ritmico o tonico della parola. Nella imitazione, diciamo così, anzi no, che fa altra stupidaggine netta, non imitazione, nel suo diventare il pentametro giambico dell'endecasillabo, molto spesso i poeti, quelli che sono bravi a farlo, riescono a fare in modo che il ritmo equetonico non litighino fra loro. Anche se naturalmente il pentametro giambico è un po' contrario a quello che succede in Italia, perché è patam, non tantam, come noi preferiamo in genere il trocheo, mentre nella poesia inglese si preferisce il giambico. Altra caratteristica di queste poesie di Joyce che io trovo bellissima perché lo sa fare, però bisogna conoscere un po' la litrica, è che lui sa perfettamente usare il trocheo, cioè non usa solo i giambi, mentre la poesia giambica è la più tipicamente inglese, e il pentametro giambico è quella cosa più simile all'endecasillabo in italiano. L'endecasillabo è una meraviglia, è un verso meraviglioso perché con l'endecasillabo si può fare tutto, assolutamente tutto. Una delle cose più importanti dell'endecasillabo e una delle cose che io ho cercato di preservare quando i suoi versi sono, diciamo così, pentametri giambici irregolari o sono imitazione, qui si imitazione dell'endecasillabo, e quello di conservare la decima, di conservare non solo il ritmico ma anche il ritmico e tonico sulla decima. Credetemi, proprio facilissimo non è. C'è un'altra cosa che mi è molto inquisito, noi non abbiamo registrazioni di Saffo, cioè Saffo non aveva mezzi di comunicazione di quel genere. Se voi provate a sentire come alcuni grecisti ora leggono la poesia di Saffo, non so se siete d'accordo, io non lo so. Perché la cosa bella dell'adonio è la sua pugno nello stomaco. L'adonio dopo un discorso, perché veramente un discorso che va avanti per tre versi lunghi, a un certo punto veramente ti tira un pugno, ti dice qualcosa di brevissimo che ti costringe a fare... Com'è? C'è qualcosa? Non finisce, come mai? Ed è estremamente efficace e Joyce secondo me è bravissimo a usarlo. Adesso ve ne leggo, vi leggo la poesia che è intitolata She Weeps or Run, che è legata perché conosce Dabbenes a The Dead e è riassunto quasi della gelosia che ha provato il protagonista di The Dead, Gabriel, quando quella sera ha avuto intenzione di fare amore con sua moglie e sua moglie gli oppone il ricordo di un ragazzo che è morto per lei, per rivederla un'ultima volta, prima che lei da Gombe, dove abitava, andasse a Dubrino. Naturalmente Gabriel ha però un senso di gelosia, ma poi Medica e Gabriel, come nell'ultima poesia di questa raccolta e nelle ultime tre, anzi direi, si rende conto. Quello ragazzo è morto, tra un po' moriranno anche le due vecchie zia e poi morirò anch'io perché moriremo tutti. E invece questo di dargli dolore, gli do un senso di pace nella coscienza che tutti e quelli che nascono devono morire. C'è un ricordo di intersegno? Non so, forse è più vero o il contrario, secondo me, ma possiamo discutere per cento anni e non arriveremo a una conclusione. In inglese è molto più bella che in italiano. C'è un ricordo di intersegno? C'è un ricordo di intersegno? C'è un po' morire? Ciao! C'è un��ere che tolare? C'è ai tumore insegnano? È come più greenscredi? C'è a oggi le chief in questo. Come deveную lapare? Se middleare... C'è… … brevi sono a Grey Moon Rise, Van a Snow, a Mothry Ray, e arrivano come un pugno tutti e tre. In Italia hanno fatto quello che potevo, ma sono lui più bravo. La pioggia su una volca di lieve, lieve cade, dove l'oscuro amante giace, triste la sua voce mi chiama, triste chiama, nella grigia alba in mare. Amore, lo senti tu, come lieve, come triste, la voce ancora chiama, senza risposta ancora, l'oscura e la pioggia cadeva, all'ora come ora. Oscuri anche i nostri cuori nuori giaceranno e freddi, come il suo cuore triste dall'ora giace, sotto le ortiche grigio lune, il mucchio di terra nero, i sussurri di pioggia. E in tre versi sono diventati più lunghi, ma nella grigia alba lunare è uno, all'ora come ora, meglio l'altro, i sussurri di pioggia, meglio il terzo. Perché ho tradotto la grigia alba lunare, ve lo voglio dire, perché qui, sì, secondo me, c'è un omaggio di Joyce a Riccoboito. Quindi non è soltanto a Erli, perché Joyce si comprava sempre i libretti e perché, e questo non è stato di nuovo riconosciuto da alcuni commentatori, che per esempio quando lui cita Otello, il libretto di Otello, è di Riccoboito che è assolutamente splendido. Riccoboito era anche un compositore, il Messistoferi non è niente male, proprio assolutamente niente male. Non me la leggiatevi, io avevo un nono melomane, un padre che conoscevo molta musica, una madre che suonava il pianoforte e sono stata tirata solo a Luggeroni. Quindi evidentemente sono entrati nella mia vita già due anni, credo. Allora, questo commentatore quando Joyce cita a Riccoboito dice questa è la traduzione di Joyce del testo Shakespeareano che non è assolutamente vero, perché Joyce non ha tradotto Shakespeare prima di tutto e non solo ma commenta anche sulla stranezza della traduzione di Joyce. Ovviamente non è la traduzione di Joyce, è il testo di Errico Boito e quindi non poteva che essere una traduzione strana. Ora, quando a Joyce vi ha detto, ha cominciato a scritto la sua prima poesia che era giovane della Dublino ed era, secondo me, morta sua madre. Le altre le ha scritte tutte agli intervalli. Le ha messe insieme prima del 1927, quindi nel 1926, a Parigi e ha dato a queste poesie la forma che hanno adesso. Cioè una forma organizzata. La forma non c'era all'inizio, non è questa volta preordenata. E lui, che avendo sempre bisogno di un contenitore di una forma, questa è la mia interpretazione, ha dato questa forma legata al dolore e alla morte. Da dove lo dedico? Dalle sue lettere. E le lettere sono estremamente esplicite. Qualcuna qui la cito. Non molto, perché se scrivevo ancora più pagine all'editore non pubblicato e ci sono circa 36 pagine di postazione a 13 poesie corte. Quindi ho tirato proprio fin dove potevo. E nelle lettere è chiarissimo, perché lui scrive alla Weaver, per esempio, che quali sono le date esatte, quali sono i luoghi esatti. Quindi racconta alcune altre cose. Naturalmente si lamenta anche che Pound gli ha detto che queste poesie sono da album di famiglia. E' un po' offeso, perché Pound in quel momento stava difendendo un poeta che secondo lui era un poetastro. Lo dice, quindi non sono io adesso prendendo, lo dice lui chiaramente. Pound aveva ragione, ma non lo so, perché secondo me, per esempio, Pound non si è reso conto che rispetto all'immagismo queste poesie sono degli ottimi esempi di immagismo. E d'altra parte Pound in quel momento voleva andare avanti con il figlio di un secco. Quindi l'idea delle poesie è pagiunta facile, è pagiunta familiare, è pagiunta in una rima, probabilmente non ne andavano. Io non sono molto d'accordo con Pound. Detto tutto questo, non soltanto io dico che c'è una struttura, dico che questa è la stessa struttura di Douglas, che cominciano con la morte, il bambino che si rende per la prima volta conto della morte perché non è la parente, e alla fine l'adulto che si rende conto che morirà anche lui. Ti ho detto, questa secondo me non sono, questa è una abbastanza vera, ma quella che viene dopo, per esempio, tutto giolto e questa volta viene da Bellini e da, in realtà non è pesantemente un duetto, ma ne sono comunque il vino che pensa che la sua amata lo abbia tradito e invece le rette sonnangula. Joyce pensa che Nora lo abbia tradito, poi si scopre naturalmente che è un amico geloso che ha raccontato delle cose non vere. Di nuovo qui ce l'uso, ma è bellissimo della donna. A birdless heaven, see dusk, one blown star, piercing the west, as thou, fond heart, last time so faint so far, rememberest. The clear wrong eye, soft look, the counted brown, afraid of hell, falling as through the silence, falleth now, dust of the air. Why then? Remembered the shy, sweet words, repying what the dear love she yielded with a sigh, was all but thine. I tre incredibili versi brevi, naturalmente sono tre versi lunghi, come nella Saffica minore, e quelle breve sono rememberest, dusk of the air, was all but thine. Naturalmente se uno lo sente Bellini capisce di più, perché Bellini a un certo punto dice perché non posso odiarti. E anche qui viene fuori il perché non posso odiarti. Un cielo senza uccelli, mare scuro, una sola stella, trafigge l'occidente. E tu, cuore stolto, il tempo dell'amore è così tenere, lontano, ma ricordi. Lo sguardo tenero di giovani occhi chiari, la fonte cambia, la chioma fragrante, cadente, come dentro il silenzio ora, cade, l'oscurità dell'aria. Perché allora? Mentre ricordi quelle dolci timide rusinghe a provare bene, se il caro amore che concedeva non sospirò, tutt'altro era che tu. Poi lo sono lavata con gli addoni ma non bene come lui. Devo saltare moltissime. Quelle che io preferisco vengono dopo. Ce n'è una perché poi il tempo spinge. Naturalmente intanto lui invecchia, come vi ho detto in questi poesi. Parla della morte della madre, poi parla della figlia, un fiore donato a mia figlia, un'altra cosa, poi parla del figlio. Poi comincia a parlare dell'invecchiamento, di quello che vi capita. Pensiamo che sono sempre bene. Non è forse il più difficile, vediamo se riesco a girare con una mano, ecco. Questa è intitolata Alone, è scritta a Zurigo ed è ambientata a Zurigo sul lungo lago. Grigio dorato e tessitura di luna fanno della morte intera un velo. L'ampione sul lago addormentato tracciano tracce di laborno. Il cannetto astuto sussurro alla morte un nome, il suo nome. E tutta la mia mania è un diletto, un delipio di vergogna. Sono riuscita qui a riprodurre l'onde assonanzi e consenanzi. Non so che ora è, forse c'è tempo per una ancora. Volevo chiederti una cosa, no? Ma certo. Cioè, io assolutamente non capisco il diletto con la vergogna, no? Bisognerebbe qui, purtroppo, bisogna pensare a chi è la donna. Sì. E evidentemente non ci so che ora. Sì. siamo tutti adulti, insomma. Potrebbe, diciamo così, avere un'avventura di autoamore. è detta bene abbastanza educata? Sì, ho un'idea un po' di corso di autoamore. L'autoamore, no? Ma, però, è molto meglio quello che non si può dire. Operazione proprio, non si può dire. Autoerotismo. Sì, sì. No, scusa, sì. No, guarda, non arrossisco assolutamente. Cerco solo questo gusto edificio di... No, è vero. No, è vero. L'eccesso di autobiografia, beh, insomma, se devo essere sincera mi irrita un po'. Io trovo che c'è una coerenza in questa paesia, per esempio, lungo il lago, che non mi rende particolarmente curiosa su qual è l'essere femminile per cui c'è questo autoerotismo. oppure, naturalmente, la supposizione è che questa vergogna sia dovuta al fatto che pensava a una donna alla quale non avrebbe dovuto pensare. Non so, continuo a prendermi a dirlo, che pensasse la figlia. Ecco, questo è stato suggerito un paio di volte. Io lo trovo particolarmente sgradevole e naturalmente non lo posso escludere. Chi di voi? Direi che preferisco rimanere nella coerenza di questi pochi versi, così come sono, e intanto della capacità che Pound li nega di creare un paesaggio. che, se vogliamo, ha qualche cosa che potrebbe diventare civese. Pensate ai tracci della burma sul lago, o pensate anche alla assoluta economia di questa cosa, di questa, sicché è una descrizione. immaginiamo semplicemente una figura umana, vicino al lago, l'acqua, i lampioni che ricordano invece dei tracci di qualche cosa di vegetale. Poi il dottor Metti diventa molto complicato perché perché il laborno? C'è una ragione del perché sia il laborno. C'è una ragione perché i fiori sono venenosi, però hanno un bellissimo colore. Dorato, giallo dorato, anche se a Joyce non piace il giallo, per esempio. e sappiamo molto bene sempre delle sue lettere che non ti piace il giallo e lo dice. Quindi bisogna poi, ovviamente sì, è vero, forse non di piacere perché bisogna analizzare le parole e metterle al rapporto con tutto quello che lui ha scritto. E certamente questo sì può essere agritante, con le lettere, con tre volumi di lettere. Adesso volevo leggere una che è una delle più misteriose e che è stata considerata da tutti estremamente misteriosa e che io non trovo per niente misteriosa fra l'altro. Però è intitolata Night Peace. Di nuovo ci deve essere un riferimento alla sua vita. Joyce era un grande frequentatore di bordelli, in particolare di quelli dove andavano i marinai a Trieste. Si fermavano per un po' in alto e c'era una quantità di questi istituti. La presia. Night peace. Notturno. Gaunt in gloom, the pale stars, their torches, enshrouded, wave. Ghost fires from heaven's father just faint in yun. Arches on soaring arches, nights seem dark. Nave. Serafin. Serafin. The lost host awaken to service. Till in moonless gloom, each lamp is muted. Dean. Raised when she has, unshaken, her tuliple. The long and long and large, the night snails are soaring, the star knelt tolls, as the bleak incense surges, cloud and clouds, voidward from the odoring waste of souls. E' effettivamente una poesia difficile. L'immagine, per questo che ho già accorti, è quella di una grande chiesa che però è la notte stessa. Il soffitto della chiesa è il buio della notte. Sparunte nelle tenebre, pallide le stelle, le torce d'oro, velate, omideggiano. Spiritici fuochi da lontani falde di cielo, temi, illumano. Archi su archi, archi su ascendenti archi, la lavata di scuro peccato della notte. Serafini, le schiere perdute si risvegliano al servizio. Fino a che, in tenebre senza luna, ognuna cade, sborzata, opaca, non appena levato e scosso il suo pulivolo. E' lungo e alto, ascendendo alla lavata della notte, suona un ritocco funebre di stelle. Un trincenso dietro sale, nuvola sopra nuvola, perso il vuoto dell'adorante spreco di anime. Un universo andrebbe spiegato. Capisco che a qualcuno questo dia fastidio. le stelle paragonate a torce, gli fuochi spiritici e i verbi che vengono usati. La chiesa è cotica, fra l'altro. Perché si parla di archi dopo archi ed è chiaramente una chiesa alta, ma è una chiesa romanica. Questa deve essere per forza una chiesa cotica perché è alto il soffitto, è alto il cielo. Ma poi c'è la parata che scuro il peccato della morte. Allora uno deve chiedersi. Devo dire che qui invece c'è un straordinario americano Robert Chowles che ha scritto un bellissimo saggio su Picasso e Joyce proprio parlando di come erano arredate le case di tolleranza di quegli anni e la possibilità di una senta oscurità. Diciamo anche che molte volte i signori lavoranti, le lavoratrici di quei luoghi una volta non erano il primissimo pelo, non erano semplici luci sborzate, tutto sommato era anche meglio. E se noi la leggiamo veramente in questo modo, allora si capisce anche i serafini. Ma perché si capiscono? Perché il poesie giovanili parla di serafini parlando Joyce non in quelle che sono un altro sistema di storia d'amore, ma in un'altra poesia parla di serafini con le schiere cadute e le schiere cadute sono anche lucifero. Comunque portano anche la luce e poi c'è questa faccenda di fallen ed è il significato che fallen e fallen ovviamente aveva nel mondo di Rubino. A questo punto io capisco che possa essere la realtà di te. Se però uno ha una legge, non proprio la traduzione italiana, meno peggio di altre, ma nella poesia inglese, l'accavallamento di queste immagini è in realtà straordinario. La notte, la chiesa, il gotico, la profanazione della chiesa per il Saint-Durk, l'illuminazione di una casa di tolleranza, ma nello stesso tempo sono stelle e c'è un rito religioso perché c'è uno scuotere in Turipolo e naturalmente c'è l'abbigliamento che hanno le donne di questi posti e anche l'illuminazione data dai gioielli che portano, finti naturalmente, dall'abbigliamento che ha gli stremi e che implica un uso abbastanza abundante di qualcosa che richiama la luce. E poi quel bellissimo incenso che sale nuvola sopra nuvola, il ritocco fune delle stelle naturalmente è la luce della morte, insomma è per chi suona la campana, la dividenta dell'interno. E poi c'è quel bellissimo waste of soul che di nuovo risuona come un addomio e che è uno dei problemi. Cosa vuol dire waste? Io l'ho tradotto come spreco e sono convintissima che sia spreco. Naturalmente c'è stata la wasteland, a questo punto c'è stata. e che cos'è waste? Waste è qualcosa che non si usa in effetti. La terra desolata con waste è una traduzione che ormai non si può mai più cambiare, è un monumento ma non è quello che voleva dire T.S.A. Il waste è quello che poi troviamo anche Gironzio, non Gironzio è un pezzo di terra che non è né coltivato, né costruito, né usato, neanche asfaltato, niente. È waste, è terra sprecata. Se qualcuno di voi va a rileggere Gironzio, vedete che anche T.S.I.O.T. non la tratta in maniera, la tratta è sacra in un certo senso, quindi forse terra desolata è anche un po' troppo sacrale. D'altra parte qui il gioco di sacrare ed è sacrato è continuo in tutta la poesia, legato all'immagine, legato all'architettura, legato al contrasto di luce e ombra, legato al contrasto di quello che la luce può dire al buio e quello che il buio può dire alla luce. e poi alla fine la campana e ci sono le stelle. Naturalmente le stelle non possono rintoccare, ma le stelle trunco trunco in un certo senso. è l'intuizione dell'arintocco delle stelle per l'estra della legnette efficace da parte di Joyce. E lo spreco di Attene lo trovo finale bellissimo, anche se non è affatto una condanna del Sea Dark. Lo spreco è forse quello che ascende inutilmente. Ricordiamoci però che Joyce è probabilmente non cadente, non è un cattolico cadente, ma è il terriso del cattolicesimo da quando nasce. e lo è completamente fino alla fine. Io naturalmente non so chi ora è, spero che magari abbiate qualche curiosità. Ce ne sono indubbiamente molte perché io ho anche qualche libro, purtroppo l'edizione sta finendo. Per cui ne ho pochi perché stanno, non so come vai, ma stanno già finendo. Spero che concluda tutto. Ecco, avete assistito a una cosa straordinaria? Secondo me. Perché queste poesie sono più difficili, ma io operando in spiato malarmi è difficilissimo. Ma è niente in confronto a questo. Cioè, quindi, sapono, fantastico come sei riuscito a ricondurre alla logica del senso, lui l'ha fatto esplodere, no? Senza le lettere non ci riuscivo? Sì, sì. E sono le lettere che... Sì. Cioè, forse... Per esempio, l'adonio mi veniva in mente anche il foscolo quando mi diceva Saffo, no? Certo. Lui lo faceva benissimo in italiano. Ma, a parte questo... No, giù il cappello, sia per l'accenno ai giambi, eccetera, tutto molto preciso, ma sinceramente non si fa. E' una lettura straordinaria. Ma, per concludere, perché a uno può non piacere? Perché è talmente difficile, insomma, o uno si sente immediatamente idiota, che è uno degli effetti di George Norwood. Ah, sì. Lui dice, inchilati davanti queste lettere nel Finnegan, no? Cioè, sono tutti... O sono cornuti come... I Shakespeare per lui è un cornuto. Wagner è un wagoner. Cioè, uno che... Perché wagoner? Perché nella... Nella... Cavaliere rusticana... Il... 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 Caustos. Ah, il cane... Altre, ma perché mi piaceva Fausto? Sì, sì. Io qui non l'ho detto, ma, molte... Peque delle traduzioni, le dicono di una notte, sono, eh... Di nuovo legate al libretto, di nuovo... Perché c'è, c'è soprattutto la Fine, non? Il... Dunque nelle 특별e ne, nell'Opera sono tre Atti, non sono cinque. E... e non so se vi ricordate, anche Bollito inventava le parole, Bollito piaceva, è in dubbio perché lo cita troppe volte, vi ricordate che alla fine Nannina canta nel bosco un bagliore cesio dal balonare a Pagli, vi ricordate la fine, Fostas era una signora che crede di essere molto bello, è un conquistatore di Dami, e per punirlo, poi non solo, non le corteggia, una volta le corteggia, due o tre, e allora decidono di dare una lezione, le signori Winzer gli danno un appuntamento nel bosco a mezzanotte, lui arriva nel bosco a mezzanotte, loro creano tutta una recita in cui fanno finta che arrivino le fatte e poi gli danno una lezione a pizzichi spruzzi di pizzichi, insomma, senza fargli male, già hanno buttato quella cesta della biancheria sporca nel Tamigi, quindi lui viene fuori e andando va al pub, come piaceva, a Giorgio piaceva molto perché era una parte che era data al suo figlio Giorgio, questo per, immaginate mettiamo un po' di vino nell'acqua del Tamigi, dice proprio questo tutto bagnato e che è finito nel Tamigi con la biancheria sporca, non doveva essere profumata a quell'epoca. In questo terzo atto di Boito, Boito si inventa delle parole, inventa un bagliorcesio, che non c'è, non esiste un bagliorcesio, non c'è, poi inventa il soffio etesio, perché comincia sul filo un soffio etesio, scorrete agili larve, nel bosco un bagliorcesio, dal balunare appare, né cesio né etesio esistono, dopo Boito esistono. E secondo me questo terzo atto, scritto da Boito, musicato, davvero dentro l'altro bellissimo, non è neanche difficilissimo la parte di una nena, secondo me lui l'ha sentita, l'ha sentita, l'ha usata. Sicuramente, diciamo, come concludere, qui è un'apertura, questo testo che secondo me è in leggi che rispetto parlando, tu l'hai legge? Sì, ti ho messo 36 pagine per dimostrare. No, no, hai dimostrato che è leggibilissimo, ma a patto che uno abbia una conoscenza del earth total, uno che è un ignaro, che legge una poesia così, e dice, per esempio, quello del bordello, non si capisce niente, tra stella, piumine, che so io, uno dice, qui siamo in piena. Ma non ti fa effetto lo stesso? Scusa, c'è la notte, il peccato. C'è il peccato evidentemente, se quella è una chiesa, c'è qualcosa che risacra la chiesa. E' vero che uno può anche andare in chiesa a disacrarla, insomma, però, gli elementi ci sono, perché la notte c'è, il peccato c'è, il peccato è oscuro, e d'altra parte nella simbologia cattolica, il peccato nero, nero di peccato, e la chiesa indubbiamente c'è, perché parla di Navata, quindi non è che te lo manda a dire, te lo dice. Ecco, sono frammenti. Comunque, no, io dico che queste poesie sono bellissime leggendole, no, in inglese. Magnifica la traduzione, non è colpa tua, c'è il significato esploso dall'ordinario. Per esempio, the moons, grey, golden, measures, make. Verso bellissimo, con alliterazioni, tre. Moon, measures, make. Tre alliterazioni, così via. è una musica, no? Cioè, io dico questo. Le alliterazioni c'è volta dovuto cambiare lettera, non puoi alliterare con le persone. No, ma non dico tu, ma lui è davvero un musicista del silenzio, del silenzio del senso. Per me, io penso che ogni lettore può farle quello che vuole. Tu ne hai fatto un uso ottimo, perché hai fatto un lavoro intertestuale, no? Quindi c'è un cappello, è così che si fa. È fantastico. Con questo, cosa posso dire? Essendo una poesia straordinaria, fuori dubbio, di grande valore, purtuttavia richiede un lettore di enorme esperienza dell'opera totale, no? Invece, ciò non toglie che cos'è il valore per me. Il suono, la lettera, la sua musica è stupenda. Se mi dicono cosa vuol dire, io dico vuol dire che tu sei un imbecile, canta e danza, no? E allora io canto e danzo, e mi allegro, allegro tutto, ma di bordelli non ne trovo uno aperto. Guarda che è anche l'ultima, poi che è una preghiera altrettanto basfena. e comunque noi, come dire, noi abbiamo avuto qui un'esperienza eccezionale, lui ha fatto un lavoro incredibile. Pensate che Paolo era forse il critico migliore del Novecento, non ha capito questi versi? Per direi come sono difficili. Ma lo irritavano. Comunque senti, mi pare tre delle traduzioni italiane sono state musicate come tesi di laurea da uno studente di conservatorio a Trieste. Me lo ha telefonato la settimana a scuola. Me li aveva già chiesti, eccetera. Io gli ho detto di sentire Chabrie, di sentire Le Souvenir de Monique, perché qui non c'è molto senso dell'umorismo. Invece per cui, quando le musiche, non copiare Chabrie, perché non è quello. No, ma Le Souvenir de Monique, che io adoro, è quando mette in quadriglia Mildunglaise, no? Se c'è una cosa strappacuore, è Mildunglaise, no? Perché è la fine del Tristano, no? E quindi, lì sul cadavere di Tristano, e Chabrie, è una cosa secondo me straordinaria, è un pezzo che mi piace pazzamente. Però qui non c'è senso dell'umorismo. Per cui gli ho detto, lui mi ha detto, no, 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 l'ho copiato Chabrie, non l'ho ancora sentito, ho detto che mi manderà il cd, non mi sarei mai aspettata che tre poesie suscitassero l'attenzione. Si sta laureando in composizione al... No, ma è musica pure, secondo me, io esagio nel senso vuotare in pubblicità. Ma no, no, quello di Joyce, ma il cagolino è incredibile. No, no, ma anche le tue sono stupende, nel senso che Patrien de Cassila... Eh, lui è molto più bravo. No, io, no, perché adesso parlavamo di lui, la traduzione è eccezionale ed è un valore in sé, questo è già... Cioè, anche se non abbiamo l'originale, sono belle poesie. Ok, grazie. E questo è sicuro. Però io dicevo, dal punto di vista della poetica, no? Per esempio, ci sono alcuni elementi da tenere, la ripetizione variata, che è uguale, ci sono autocitazioni di ogni tipo, che a me danno un fastidio infermario. Comunque, ma questo è un fatto soggettivo, no? E come Danuzio, per esempio, non si cita mai, inventa la differenza, mentre qui c'è l'auto-eccensamento totale, e questo può dare un leggermente fastidio. Ciò non toglie che chi ha fatto una musica così, diciamo, siccome siamo in Italia, bisogna, io dico, il quattro tasso, grande musica, e così via, no? lo stesso Danuzio, grande musica, un barretto di musica rotta, e così via, c'è l'italiano, ricchissimo. I irlandesi sono bravissimi nella armonia, ma lui probabilmente li batte tutti. Cioè, questo è un po' spedizio, straordinario, io le leggendo nella notte, dico, questa è musica e ci danzo sotto, però non ci capisco niente. Allora ho detto, o sono irimpeccinito dall'età, o effettivamente è di una difficoltà estrema, no? Ma forse non è neanche necessario. Anch'io penso che basterebbe il suono, ma non perché sono la mia degenerazione, no? Come vedete, quando le un panni fanno i giambi, naufragarmi, tolci in questo mare, perché non me ne frega niente del mare, niente del naufragio, ma questi giambi, no? e così via. Ma questo è il punto della lettera come mistero, come, in fondo, un offrirsi, una non monumentalizzazione del significato, una liberazione totale di quello che non sappiamo di noi stessi, il mistero, no? Invece, ecco questo, io veramente ti ringrazio per questa bella serata, vediamo se ci guardi in tervento, va fuori dubbio che un poeta così difficile io non l'avevo mai visto, però ciò non toglie che difficoltà, come diceva Platone, il bello è difficile, no? In questo caso mi vince, no? Sì. Grazie.